Benvenuti cari follower. Quindi finalmente la fine della siccità e il ritorno in Italia del freddo e dell'inverno per eccellenza a partire dalla sera di domenica 31 dicembre 2023. Con forti piogge, grandinate e qualche nevicata. Ma prima di entrare nei dettagli non dimenticate di supportarci innanzitutto ammirando questo video per motivarci a continuare e fornirvi il meglio. Quindi, come vi avevo confermato tempo fa, gli aggiornamenti sono ancora stabili e indicano il ritorno della pioggia sulle regioni settentrionali d'Italia, a partire dalla notte di domenica, e la pioggia si unirà gradualmente alle coste del mar Tirreno nella prima parte del mese. Ore di lunedì mattina. Tali piogge saranno più intense in Toscana e regioni limitrofe, accompagnate da grandine. Qualche pioggia di neve è caduta all'estremo nord, con un notevole abbassamento delle temperature e forti venti, e conseguentemente, a partire dalla serata di domenica. Forti piogge e pioggia in tutto Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, l'estremo nord del Piemonte, neve sull'altopiano della Valle d'Aosta, Trento Alto Adige, nelle Alte Alpi e nelle zone prealpine, ciò in attesa dell'arrivo di altri temporali più potenti durante la prima settimana del prossimo gennaio, di cui vi forniremo i dettagli in seguito.